In questo video vedremo come partecipare a un'attività tipo forum. Quando saremo dentro il nostro corso Moodle cerchiamo la sezione che ci interessa e qui cerchiamo l'attività forum. Il forum è sempre contrassegnato da quest'icona che sono due nuvolette di dialogo, una nuvoletta verde e un'altra nuvoletta blu. Clicchiamo sull'attività e qui troveremo la spiegazione, le indicazioni di cosa dobbiamo fare in questo forum. Per inviare il nostro testo al forum dobbiamo cliccare su aggiungi un argomento di discussione. Clicchiamo qui e compariranno due campi, oggetto e messaggio. Nel campo oggetto devo scrivere il titolo del mio testo e nel riquadro messaggio scrivo appunto il mio intervento, il mio post. Quando avrò finito clicco su invia al forum. Andiamo giù e eccolo qui il nostro intervento. Abbiamo, se adesso volessimo modificare o eliminare il nostro intervento, abbiamo 30 minuti a disposizione per modificare il nostro intervento. Quindi per farlo clicchiamo sul titolo del nostro intervento e qui a destra abbiamo diverse opzioni. Modifica ed elimina. Se vogliamo modificare qualcosa, clicchiamo su modifica, aggiungiamo o eliminiamo quello che consideriamo e poi per salvare le modifiche clicchiamo qui su salva modifiche. Bene, torniamo un attimo al forum. Andiamo giù. In questo forum non ci sono altri interventi, soltanto il nostro intervento, però se ce ne fossero potremmo interagire con i nostri compagni e potremmo rispondere ai loro interventi. Come rispondere a un compagno? Se questo fosse per esempio il post di un compagno, dobbiamo cliccare sul titolo e di nuovo a destra abbiamo l'opzione rispondi. Clicchiamo su rispondi, nel riquadro scriviamo la risposta e poi clicchiamo su invia al forum. Anche per le risposte abbiamo la possibilità di modificare o di eliminare la nostra risposta. Per esempio se lo volessimo eliminare, clicchiamo su elimina, dobbiamo confermare la nostra scelta e quindi cliccare su continua e così eliminiamo la nostra risposta. Torniamo al forum. Eccolo qui il nostro post.